Si è tenuto a Exian in Cina grande festival delle arti The Silk Road al quale hanno partecipato 50 paesi rappresentanti dell'Italia è stata presente Mariella Costa scultrice e pittrice caloniese di nascita e roccellese di adozione. Una donna del sud estremo chiamata a rappresentare l'Italia per tale motivo ha concepito un grande guerriero a colori della bandiera italiana nel nostro mare della nostra nazionale di calcio oltre che con i colori nazionali cinesi. Mariella Costa ha dipinto sulla grande opera scultoria il Colosseo da un lato mentre dall'altro ha effigiato un dragone riconosciuto simbolo cinese. Un'opera realizzata con il miscuglio culturale tra oriente e occidente bordata con il color oro per ricordare l'alto valore culturale di entrambi i popoli. Il grande guerriero è stato scelto ed esposto in prima fila nel centro espositivo ospitante l'imponente manifestazione artistica ed è stato posizionato davanti a tutti gli altri guerrieri realizzati e agli altri artisti di varie nazionalità. Oltre al guerriero la Costa durante il periodo di permanenza in Cina ha realizzato anche 10 dipinti sempre ispirati alla cultura italiana e cinese i quali sono andati in mostra nella serata del 21 settembre a conclusione del festival artistico nella Hall del Teatro della Televisione Cinese. In questa occasione l'artista ha realizzato anche un dipinto in estemporanea attirando così l'attenzione del numeroso pubblico presente. Durante la serata di premiazione l'artista calabrese è stata premiata dal governatore della provincia di Sanxi un grande riconoscimento culturale anche per la Calabria e l'Italia intera. Gli eventi artistici della scultrice e pittrice calabrese in territorio cinese comprendevano anche un'importante mostra personale presso l'Oxian Youth Art Museum. L'invito all'importantissima manifestazione artistica è stato possibile grazie alla T-Group di Concetta Tassone la quale opera diversi anni in Cina ed ha creato un ponte di attività culturali, economiche e istituzionali ed ha fatto da tramite tra le istituzioni cinesi rendendo così possibile l'invito all'importantissima kermessa artistica.